e la peppa gli hanno cambiato anche l'immagine guardate chiesa ansufati rushford quello dietro che cazzo è? bentornati nel canale delle burnio che resta stupito di questa nuova schermata del gioco mobile non c'è neanche scritto mobile ci sono scritte football pass 2021 il digestore va beccona me entriamo in questa nuova versione del mobile vi farò l'aggiornamento quest'oggi partiamo sempre dal mobile poi passiamo alla console attenzione così facendo scaricare la versione precedente conferma le dimensioni dati 6m2 continua perché erano altri 300 ma li ho già scaricati stamattina poi il video non l'ho potuto fare lo faccio adesso allora mentre sta facendo questa cosa vi dico già che non ho video su eFootball avevo giocato col Tottenham poi vi farò vedere i risultati quando non ho fatto video per un semplice motivo ho una persona che mette il non mi piace appena pubblico il video il cui vuol dire anche le telecronache hanno cambiato si si continua il cui vuol dire che è un iscritto perché io ho come posto un aggiornamento un qualcosa che riguarda il football o pass queste cose qua gli aggiornamenti dopo appena appena è pubblico dopo pochissimi secondi ho già il non mi piace il cui mi fa pensare che questa persona riceve la notifica e mi mette il non mi piace allora se devi rimanere iscritto per fare hating alle cose che pubblico sei pregato di disiscriverti nessuno ti costringe a restare nel mio canale quello secondo me è proprio non c'entrano niente i contenuti ma è proprio contro la persona quella cosa lì e quindi vai sul personale e mi ha fatto abbastanza incazzare ecco sì mi ha fatto incazzare al momento perché lo so ho visto che è un double pezzo che lo fai ah ma tutta la grafica è cambiata prendiamoci 1500 gpotsi vediamo cosa c'è scritto vabbè chiudo quella cosa lì è incredibile che l'abbiamo fatto per mobile l'aggiornamento ma non per la console quella va non lo capirò mai guardate allora annuncio versione aggiornata e ora posso per scarcare la tua versione 5 costate nel negozio in alcune regioni potremmo essere più tardi vabbè dettagli aggiornamento nuovi dati della stagione implementati in ciascun campionato comprese promozioni e retrocessioni pensa a te formazioni allenatori aggiornati per ciascun campionato dati dei giocatori aggiornati divisa nazionale squadre di club nuove aggiornate stemmi aggiornati per squadre club e campionati modelli facciali aggiornati ritardi di giocatori allenatori nuove aggiornati dati del campione aggiornati cioè fermi e fagiari i coglioni sta cosa non lo potevano fare anche sul PES 21 dai l'emozione di alcune squadre di club ha seguito i nuovi dati di licenza l'emozione di alcune che abbiamo determinato in posizione ha seguito i nuovi dati di licenza e questo giorno abbiamo risolto anche numerosi altri inconvenienti speriamo che vi piacciono gli ultimi giorni rapportati ai football PES 2021 mobile dovevi scrivere mobile vabbè ragionamento qua sarà necessario circa 1 giga e 9 vabbè l'abbiamo scaricato bla 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 tutti gli autentici che si calano un giocatore e ci verranno nella post in arrivo un agente speciale black ball come ringraziamento anche cioè anche la palla nera ci regalano incredibile avviso sulle di gestore aggiornamento abbiamo applicato la seguente modifica le di gestori nome a campo trovo ricevono i di gestori di 13 carattini invece che di 9 vabbè verificare il tuo di gestore procedi in uno dei seguenti modi osserva il codice formale da 9 a 13 vi ho mostrato in basso a sinistra nella schermata del titolo vai in extra informazioni attente profilo attente di gestore vabbè mi hanno modificato probabilmente le di gestore gli aggiornamenti live tornano a partire da oggi quindi dati giocatori squadra affiliata valutazione connessione dati allenatori squadra affiliata tattiche formazione e hanno rimesso le lettere rimposto in pace Riola e di Oliveira Riola e di Oliveira Faustino giocatore del Shonan Belman è venuto a mancare a questa notizia ci sono probabilmente attristati agiremo come sia all'interno del gioco non sarà più ingaggiabile tramite gli agenti in pari giusta non sarà più incluso nell'elenco giocatori disponibili degli osservatori le nostre precedite condolianze alla sua famiglia e ai suoi amici in un momento tanto difficile riposo in pace Riola e di Oliveira mi dispiace io lo vengo a scoprire adesso tramite mobile non lo sapevo neanche premi punti e furbo aggiornati cioè token abilità busta in posizione nel programma punti e furbo non ha rispondito gli utenti che hanno sanzionato dove stati uniti non sappiamo cioè vedete quanti aggiornamenti ora hanno messo la campagna delle feste anche allora dal 20 di dicembre al 21 produttore speciale 5 per 1 5 stelle per 1 poi ti danno busta in posizione per 10 500 punti e football mi tocca farli tutti questi aumenta abilità gesti per chi punti e football mi valgono anche per la console aumenta abilità gestionale per 5 75.000 gb tocca un' abilità 26 dicendo scopri maggiori dei denti qui battle con livello superstar ottiene una leggenda anche la potrei anche fare questa partita casomai sono negato ecco il mobile però magari ve la porto un valanga di preparatori speciali negli eventi e tour periodo dal 20 al 10 di gennaio i premissari raddoppiati negli eventi national team worldwide club strano perciò anche le monete te la offerta pensa a te che tristezza infatti te l'hanno messo bello in grande offerte belle subito le monete in alto da noi hanno messo i future players avrei delle monete anche i player delle adesso andiamo a vedere perchè dovrei avere 100 monetozze e poi avrei le competizioni ok abbiamo anche una black ball quanta roba qua cos'è sta cosa questa è la attenzione condizione basata sul ultimo aggiornamento ah vediamo gli aggiornamenti vediamo le condizioni giocattori trasferite non verranno influenzate agli aggiornamenti la soluzione eh eh la soluzione allora vediamo Bappé l'hanno fatto 91 Valdic 90 ed è a Benzema 89 Kurtuà 89 ed è a Casemiro 89 Marquinhos 88 Ederson 88 Ruben Dias hanno fatto 87 Bernardo Silva 87 Cross l'hanno fatto 87 Guardi tutti 87 86 command 86-12 Giocansello 86 Arnold l'hanno abbassato 86 Stiamo parlando delle versioni standard comunque Screen 86 Modric Koch Kundoga Shule Shulemani Donnarumma 86 Lautaro 85 Moderna 85 Palle Nere Tanti Tanti 85 L'hanno fatto eh Indidi Carval Ternandes Ternandes è diventato palla nera Piquet 85 Abbassato Piquet Neguardo 85 Poi c'è la casetta è sempre stata tra Piquet Odega 84 Tileman Pjanic Pemacano ha guardato 84 Tadici Allora anche i miei si hanno cambiato i valori A parte che io li avevo livellati Comunque David Spiricueta Parte da 84 Bonucci da 9 Pumde Andano Vediamo condizione peggiore Ronaldo l'hanno portato L'hanno abbassato a 92 Oblak a 91 Salah 89 Fernanda a 88 Il nuovo l'86 Insigne Muriel Guardiamo solo le palle nere Rashford Gomez Ricciaro 74 Sergio Canale Gianni Zapata Abbra Gizia Diego Iotta Dendole Cittini 84 Mertes 83 Addirittura Padrado 83 Mi pare che era sempre 83 I volti alcuni sono nuovi Ma guarda questo popò di aggiornamento Ma fallo sulla console Radio Promes C'è la gente ci giocava di nuovo Le persone ci avrebbero rigiocato Se facevano questo aggiornamento sulla console Guarda che bello che è male chiaro Anzi 80 Baccaio con 80 Vass Silvestri Gonzale Burakil Mazze Vengo da 80 Vengo da 80 Col volto nuovo Godin 80 Vabbè poi ci sono le palle argento Wendon Z 79 Da fa costo Quindi devo fare anche la formazione Vabbè la farò io Per i fatti Vabbè abbiamo visto Ok Poi Messaggio Poste in arrivo IGP E l'agente speciale Che gireremo anche Ok Dopodichè Contratto Vabbè l'agente Qua posta Abbiamo letto tutto Faccio già letto Chiudiamo Ok Andiamo in agente Speciale Speciale Eh Andiamo in fondo Qua la black ball La giriamo Together Ingaggia E via Va Dove vai Dove vai Va in Italia Vediamo se mi da uno che non ha Dell'Inter Il 37 Non so chi sia Scrinia Fa strano Dalla maglia dell'Inter Alla Juve E si scrinia Ma mi pare che scrinia ce l'ho Comunque andiamo avanti Ok Hanno messo i player of the wax Che guarderei chi c'è Vediamo chi c'è Per il player of the wax Come si fa a vedere Palloni neri 11 Giocatori suonivi c'è Chiliano Bappe 95 A parte Cultua 94 Per un bappe Cultua ce li ho già Varela Non mi ricordo se ce l'ho Odegaard 91 Upamacano 91 Favon 90 Stanno Odessa Fabio Salabia Eda 88 Fred 88 Di Caletta Carro 87 Alex Moreno 85 Gallagher Gallagher Volei quasi quasi Che è giovine Vediamo cosa mi danno con queste 100 monete Intanto Tenere la Non ne cambia niente Musichetta nuova anche per le spacchettate iniziale Già in Francia Megadam Bappe No Massa bella A parte che ce l'ho già Che cazzo è sto qua Con questo taglio così moderno Caletta Carro Difensore centrale E com'è Dettagli giocatore Destro 32 livelli Difessore centrale Stile Possesso palla Passaggio corto Superfasce Pressing Difesa decine Vabbè Portamento offensivo Vabbè no 77 Di passaggio 91 di colpo di testa Carina 86 metti 94 contatto fisico 91 come potete vedere 86 Palla 89 Cassività Forma fisica 6 Senza fortuna 2 Non sei niente male Colpo di testa Ma non sei niente E' anche sviluppo E' anche sviluppo E' sparto palla lunga Cosa è male sto caletta caro Lo blocco Proteggi giocatore Proteggi giocatore Ok E' anche sviluppo Ah qua posso vedere Che sono cambiati i volti Ma bene Questi no Miura Ah Macburni L'hanno cambiato Kane no Ah Depay si Cardi no La casetta La casetta Baiano Lo Vabbè Sala Rodrigo L'hanno fatto La faccetta nuova Bernardeschi Il volto nuovo William Di Maria Il volto nuovo Ansufati Sanea L'ha fatto nuova Rebic Neymar La faccia nuova De Bruy Musialo Bruno Fernandes Messi Ned Nakata Quello Song No C'era già così Cross Valverde La faccia nuova Vidal No Zabitz La faccia nuova Con te No Zelisky No Pogba Si Rice Marchino Brava Barrios La faccetta nuova Sergi Roberto La faccia nuova Kimi Anche Quadrato E' sempre quella Turnhand E' sempre quella Robert E' sempre quella Carriera E' sempre quella L'attesa Le hanno aggiornata Aps Penso che le abbiano aggiornata Non mi ricordo che avesse Quella Jordi Alba Le hanno aggiornata Caletta Carriera L'ho trovata adesso Ma questi no Screener No non ce l'avevo Screener Ah ma forse Non ho visto se ce l'avevo qua Però Non ce l'avevo Screener Entiti Pezzella Acerbi La faccio nuova E anche Silisa Vabbè Ok E' tutto ragazzi Per il mobile Mi metto l'altra Questa Che cosa Diciamo Grossa che ho Ok Tutti Vediamo in panchina Vediamo tutti Ho anche un marchigna che potrà mettere al posto di Kimi Cosa è male Squadretta Va bene passiamo alla versione console a vedere che cosa c'è sulla PlayStation 4 per PS 2021 Eccoci su FF 2021 da PlayStation 4 Peccato ragazzi che hanno fatto quel popò di aggiornamento anche qua D'altronde Eh Scelte aziendali Dicono che per le licenze Ma lo fai sul mobile Non lo fai sulla console Boh La cosa mi lascia molto attitubante Forse non avevano tempo per fare anche questo Hanno preferito fare il mobile Visto che Loro guadagnano molto di più col mobile Vabbè Qua Aggiornamento all'età Qua oggi Come annunciato in precedenza Abbiamo reso disponibili diversi eventi nel FF 2021 di recente Con questo avviso Vogliamo comunicare i nostri piani Dal 30 dicembre in avanti Gli eventi Matchday contro Converranno proposti periodicamente I nuovi agenti speciali scadranno al 30 dicembre Ma nel prossimo futuro aggiungeremo un nuovo pool da collezione Vedete se facciamo fresco Vi chiediamo di continuare a esportare il PS 21 e il FF 22 Il posto originale Guarda Pararei come accedere dalla settimana Gese nazionali Ok Qua è sempre le solite cose Praticamente il PS 21 si sta abbandonato Cioè Ma le persone ci giocano da console Cioè mobile Ci giocano Non so quanta gente Ci giocherà tanta gente Ce l'ho anch'io Ma io non ci gioco Cioè Gioco le simulate Oppure la proverò a vincere quella leggenda superstar Ma so già che perderò Vi farò il video da mobile di quella partita Ma se è difficilissimo a giocare da mobile Poi non ho un telefonino tanto performante ecco Vabbè Sappiamo che io ho la squadra Materasso qua Prendo dato che sono entrato I 12 resistenza Sottolinea in divisa i 12 Perché non ho minimamente giocare Con preparatore di abilità Provo 120 monete Provo 120 monete Mi sono fatto 6 monete E quindi E quindi E quindi Andiamo su agente speciale Beh i coloni ne hanno che provo Un attaccante mi serviria Qualche se immobile Che se buschezza immobile Che se sterling Cioè dammi un attaccante Che se modric Ti mi guarda Alla Mi guarda tutti qui sotto Che se Che se buschezza immobile e sterling qua Che mi faria No ben di più Dai a che se Alland Per me fare Che se Sancho Che se Alland Che se balla dammi Sancho o Alland Proveremo da qua dai Proveremo questo O Sancho o Alland Va Che se lo vedo Che se lo vedo Sveglia da Sveglia da La No se piede destra Ma ce l'ho già sicura Musiala mi guarda Che cosa è Che cazzo Che cazzo Fiori Converti dai Musiala su Musiala Però che cazzo Cioè No guarda attaccanti mi sono sulla squadra Mannaggia a me E quando Per l'Aptus Nervoso Sono andato qui Vi faccio vedere Sono andato qui L'imposta squadra Ok Vedi cosa c'è scritto Quando selezioni l'imposta squadra Tutti i dati delle squadre Comprese i giocatori Ottenuti durante Promozione Corrienti speciali L'annatore liberatore Verranno eliminati E la squadra tornerà Lo stato predefinito Questo l'ho fatto a me Sul mio account Perché so Perché a volte Vabbè Perché in quel periodo là Figo schizzato Perché Adesso sto tranquillo Sono tranquillo Gioco Non gioco Come vanno Mi prendo un cazzo Ho altre cose da fare Sono più tranquillo Mi sono andato in tranquillizzato Proprio A livello Perché il gioco Mi aveva portato Ad essere proprio Troppo coinvolto E invece l'ho fatto Troppo incassare dal gioco E Vado a visto staccare Come sapete Ho staccato per un bel pezzo E fare video De giocare E Con calmetta Una volta Ricominciare con calma Vabbè Praticamente Guarda dark Musiala Musiala Perché sto gioco del cazzo Vediamo Vediamo quanti punti che da Musiala su Musiala 139 139 95 15 livelli Gli ho dato Meno brutti Se che ne manca solo Si che ne manca solo In altri 23 Dei livelli A Musiala Però vabbè Musiala Fammi vedere adesso quanto fa Centrocampo Musiala Che costa bellissima squadra Vedete Musiala centrocampo Adesso fa 89 Cos'è male E se regista creativo Però Vabbè potrei assercare Musiala Dai Pogba Andi di Musiala Davis Araujo Bonucci Marquina Meretto Musiala andi di Pogba Bernardeschi Ci scicchiano su fatti davanti Panchina Un'imprestito Una palla bronza Una palla bianca De Pablo Grande De Pablo Rice Danis e Baglios Come centrocampista Stones E sto terzino adesso Perché fa anche il terzino a sinistra E basta Che tristezza Anche Bernardeschi Ho visto che fa il terzino a sinistra Cos'è che fa la cagare Vabbè Possiamo chiudere qua Non che se Assolutamente nient'altro Partita classificata In sfide di oggi Non che se altro Vabbè Adesso andiamo su eFootball Concludiamo E chiudiamo questo video Con gli aggiornamenti E benvenuti Nello stadio del Verona Giallo blu Vabbè Finiamo con iFootball22 E approfitto per salutare Chris26martin Alessandro Gamer Elvranito77 Pes Zoso Ho i canali miei Non me li ricordo mai Beh poi ci sono le mie sorelle Anche dentro dei miei canali Che Che sono lì Alessandro del Monte Bellezza e Natura Bellezza e Natura Il Bravissimo musicista Che fa Death Metal Petucchio Ma non mi ricordo il nome Vabbè Ho la memoria E Poi se avete visto Vabbè Ho anche Il grande Il grande Masseo Che seguo Mi fa troppo ridere Cioè mi fa piegare Vabbè d'altronde Il sangue veneto Se non seguo io Il Masseo Che so veneto E E basta E dopo tutti gli altri dai Che adesso non mi vengono in mente Perché Perché sono un po' Stordito oggi Vabbè Entriamo Non credo che ci sarà Avranno aggiornato solo la competizione E' strano perché Adesso vi faccio vedere le partite Comunque non mi è andata male Ho giocato Mi sono preso Il Tottenham Perché sapete che sono un grande Tifoso Non del Tottenham Ma del giocatore Harry Kane Che mi piace tantissimo Come attaccante E hanno messo le national Come il PES 21 Insomma Mobile Le national teams Vabbè Qua informazione utente Faccio vedere Sintesi delle partite Allora Avevo il Tottenham Vedete Qua con il Venezia Avevo portato quella partita Che ho vinto a 3-2 Contro il Paris Saint Germain Allora La prima partita Partita stranissima Come quella di Chris La seconda che ha giocato E Addirittura lui Ha anche un difensore espulso Fa i cambi Gioca in 10 Non riesco assolutamente A segnare Ho preso anche due pali Mi sembra E al 92 E 38 Lui segna All'1-0 E perdo Vabbè Poi Quella dopo Contro il Manchester United Qui dice 3-0 Ma in realtà Anche qua partita strana Perché Perdevo 2-0 Poi Ma subito Vabbè Fanno sempre la solita cosa Con queste squadre qua Il Manchester United Cioè Prendono palla Corrono in fascia Tagliano dentro Fanno la finta Di direzione Che i tuoi difensori Sono Troppo statici Ancora su sto gioco La mettono in mezzo E segnano E aveva fatto due gol uguali così Con Ronaldo Cioè Lui taglia dentro con Sancio Poi la metto in mezzo E mi fa 2-0 Dopo un quarto d'ora Di gioco Quindi pochissima E poi E poi Basta Allora ho detto Se tu giochi così Allora io gioco tutto Passaggi veloci di prima E Stavo vincendo Addirittura Al quarantaduesimo 5-2 Tra cui Un bellissimo gol di testa Di Kane Pescato dalla sinistra Dal terzino a rimorchio Che la mette dentro per Kane E della piazza sotto la traversa Bellissimo gol E Lui quitta Quitta Al quarantaduesimo E quindi c'è scritto Vedete 3-0 E quindi ho finito i primi I 2-20 Perché qui ho finito il primo Poi qui ho giocato Ho vinto 1-0 E quella dopo 2-1 E ho fatto anche il secondo evento Quindi ho fatto Una persa E 3 vittorie di fila Col Tottenham Ok Allora qua c'è poco da dire Cosa vi devo dire Ragazzi Sui football Cioè National teams Adesso Metto gol in Inghilterra O Potrei cambiare Visto che ho preso il Tottenham Che avevo già avuto Eric Kane Vediamo cosa c'è di nazionale Che mi fa voglia di provare Eh Sud America Sud America cosa c'è? Brasile Cile Argentina Il Cile non è male però Vabbè Prendiamo l'Europea L'Islanda Cris Ho visto Cris Che ha preso la Norvegia E devo dire che Non mi dispiace Neanche a me la Norvegia Io mi prenderò Penso alla Scozia Che c'è Oliver McBurnie Quasi quasi Sennò potrei prendermi la Svezia Ma no Mi sta sul cazzo Vedo come va L'aggiornamento Tra mi piace E visualizzazioni E al massimo Se vedo che ci sono state visualizzazioni E ci sono stati di Beh mi piace Sull'aggiornamento Che vi ho portato Vi beccate La partita mia Con la Scozia Visto che c'è Oliver McBurnie Vabbè Un salutone dalle Burnie Vi ringrazio Se avete guardato il video Se lascerete il mi piace E soprattutto Se vi iscrivete Al canale delle Burnie Un salutone Ciao ciao Personone E vi è il comune L'asero No In